Bentornati su MyFootballJersey. Ultimamente vediamo solo maglie fantastiche. Questa è la prima maglia, ovviamente l'avrete già visto, del Barcellona per la stagione 2014-2015. Questa è la prima maglia. Questa maglia è a dir poco meravigliosa. Quale altro termine può descrivere questa maglia, dotata di un grandissimo fascino, fatta benissimo, perfetta in ogni particolare. Nella mia classifica questa prende 5 stelle, sono curioso di sapere voi cosa ne pensate. Il costo che vedete qui sopra, beh, questo è veramente bassissimo. Per una maglia fatta così bene, che arriva anche con dei buoni tempi di spedizione, è veramente un affare. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi ancora più vantaggiosa diventa la maglia. Ora vi lascio la parte finale. Prima però lasciateci un grande like, ma soprattutto iscrivetevi al canale. A voi non costa niente, ma a noi ci fa tanta differenza perché ci permette di farvi vedere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Grazie a tutti.